Con Gianni Di Marzio se ne va un pezzo di storia del calcio italiano. L'ex allenatore, dirigente sportivo, consulente del Palermo, si è spento all'età di 82 anni a dare l'annuncio della sua scomparsa a suo figlio Gianluca, celebre giornalista di Sky. Negli anni 70 la promozione in Serie A con il Catanzaro, nel 1977 l'esperienza sulla panchina del Napoli, condotto fino alla finale di Coppa Italia. In città è vivido e commosso il ricordo di colui che scoprì un certo Diego Armando Maradona. Ciò che mi è rimasto impresso è proprio quando lui parlò che aveva scoperto questo ragazzo argentino, io ero ragazzino e nessuno lo ascoltò, quello mi è rimasto molto impresso. Si vede che era veramente un grande conoscitore di calcio. Mi ricordo benissimo quando è stato qua a Napoli e ha fatto tante cose belle. E' una persona per bene, competente, già da quando giocava in campo era allenatore. Un grande conoscitore di talenti che aveva conosciuto sia Marco Diego Maradona e si dice anche Ronaldo, ha scoperto. Una brava persona e una persona che di calcio se ne intendeva. Addio Gianni, sei stato il mio allenatore per cinque anni e mio grande amico per tutta la vita. Se sono allenatore, lo devo a te. Il commovente messaggio da Londra, scritto dal tecnico del Watford, Claudio Ranieri. Parole toccanti che vanno ad aggiungersi a quelle di società, calciatori e uomini di sport che sono andate sommandosi lungo tutto l'arco della giornata.